Iniziato il travaglio a Palazzo Carafa, la giunta vedrà presto la luce, sarà un parto meno doloroso grazie al movimento Regione Salento e al suo chiamarsi fuori dai giochi delle poltrone. Crescerebbe invece il malcontento all'interno del gruppo dell'ex sottosegretario come quello di Giuseppe Ripa che oramai sarebbe quasi fuori, accusando il gruppo di averlo abbandonato dopo che la sua performance sarebbe andata al di sotto delle aspettative, nonostante il suo risultato elettorale sia cresciuto di 180 voti rispetto al 2007. Ma andiamo per ordine, si è riunito il consiglio direttivo del movimento Regione Salento, ha allargato a tutti i candidati della lista e all'unanimità i componenti hanno deciso di dare carta bianca al sindaco Paolo Perrone, tirandosi di fatto fuori dal balletto delle poltrone. Spiega il significato politico di questa decisione il presidente del movimento Paolo Pagliaro. Rappresentiamo un nuovo modo di fare politica, dice il nostro assessore si chiama Paolo Perrone, avendo inserito nel suo programma elettorale tutte le nostre stanze, idee e progetti, dunque è lui il garante di tutto. Ribadisco, sottolinea Pagliaro, che noi siamo i primi alleati di Perrone e lui è libero di scegliere la sua squadra. Noi siamo il nuovo e rappresentiamo un nuovo modo di fare politica. I nostri criteri sono fondati sulla meritocrazia, competenza e impegno ed è per questo che noi ci tiriamo fuori da pressioni, ricattucci e tirate di giacchetta al sindaco che è libero di decidere. Così il movimento si prepara ad accettare la presidenza del consiglio per Alfredo Pagliaro, decida il sindaco, risponde Pagliaro, noi ci fidiamo delle sue valutazioni e disponibilità. Se il movimento consegna al primo cittadino il disco verde, segno di un nuovo modo di fare politica, c'è chi invece rivendica quel sostegno non avuto in campagna elettorale come Giuseppe Ripa, dato oramai in rotta con il gruppo dei mantovaniani che, in consiglio comunale, avrebbero solo due riferimenti. Pierpaolo Signore e Gigi Coclita in pol per l'assessorato. Lo schema oramai sarebbe quasi chiaro per il PDL, messuti e monosi riconfermati alle loro postazioni, entrambi papabili per la delega di vice. Coclita alla cultura, resta da sciogliere il nodo urbanistica che incrocia quello Alba Service con il braccio di ferro fra Dautilio e Martini. Guido di Lecce Città del Mondo all'ambiente, Cairo della Puglia prima di tutto alla nona. Guerrieri sarebbe la quota rosa di Grande Lecce, a lei la delega i servizi sociali. Gli alleati che entrerebbero in giunta sarebbero Fli, con delle inoce le politiche giovanili, e Iosudo con Battista, la polizia municipale. Regione Salento alla presidenza del Consiglio, salvo colpi di scena, questa dovrebbe essere la giunta del Perrone 2.